La promessa. Cruz si rifiuta di cercare Maria. Oggi ci catapulteremo nel cuore pulsante di un lunedì sospeso tra mistero e dramma. La scena si apre su un'ana in preda a un'ira incontrollabile. Le sue mani tremano, il suo sguardo è feroce e ogni parola che esce dalla sua bocca sembra essere carica di una rabbia repressa. Di fronte a lui, Cruz, visibilmente agitata, ma risoluta nel suo silenzio. Hanna, con voce tremante, accusa Cruz di tenere nascoste informazioni cruciali sulla sparizione di Maria Fernandez. Ogni ruga del suo volto racconta una storia di amicizia tradita e di disperazione. Cruz, al contrario, con una postura eretta ma occhi evasivi, sembra decisa a mantenere il suo segreto. Le sue labbra si serrano in un sottile filo di determinazione, ma Hanna vede attraverso di lei. La tensione nell'aria è palpabile. Ogni singolo membro della stanza sente il peso dell'accusa e l'intensità della reazione di Hanna. Ma Hanna, nonostante la sua furia, non è solo un vulcano in eruzione. È anche un amico ferito, un individuo che cerca risposte e giustizia. La sua passione, benché travolgente, è una testimonianza del suo amore per Maria e della sua determinazione nel portare alla luce la verità. La sua reazione non è solo un atto di accusa, ma anche un grido d'amore e di preoccupazione. Quindi, mentre la tensione tra Hanna e Cruz raggiunge un punto critico, il nostro racconto si addentra in una spirale di emozioni, segreti e rivelazioni. Preparatevi, amici, perché questa storia è appena all'inizio e il lunedì ha ancora molte sorprese in serbo per noi. Oggi approfondiremo il racconto dell'episodio di lunedì, una giornata che promette scosse emotive. Partiamo subito con un duro confronto tra Hanna e Cruz. Hanna è fuori di sé, accusando Cruz di nascondere informazioni sulla scomparsa della loro amica, Maria Fernandez. Cruz sembra determinato a non denunciare la scomparsa, ma Hanna non ci sta e affronta la situazione con una passione che sorprende tutti. Intanto Manuel, nonostante le obiezioni di sua madre, decide di sostenere Hanna nella sua ricerca di Maria. Tutti sono coinvolti, cercando Maria ovunque, e c'è una forte convinzione che Geronimo possa essere coinvolto. Ma ecco il colpo di scena. Non è Geronimo, ma Salvador, l'amore segreto di Maria. Quando Maria confessa i suoi sentimenti per Salvador, il mondo di tutti si capovolge. Ma le sorprese non finiscono qui. Valentin, ossessionato da Maria, prende una decisione drastica e la tiene prigioniera in una grotta, sperando che questo la faccia innamorare di lui. È un gesto disperato e fuori luogo che mette tutti in allarme. Nel frattempo, Leonor torna e sente subito l'aria carica di tensione e segreti. Sospetta delle relazioni tra Catalina e Pelaio, nonché tra Martina e Curro, nonostante le smentite di tutti. E mentre Margarita tenta di smascherare Pelaio, inventando scuse e piani per screditarlo, Manuel si trova al centro di una tempesta familiare quando rifiuta di visitare Ximena, che ha avuto una ricaduta. Valentin, con un'aria inquietante e occhi che rivelano una profonda ossessione, agisce con una determinazione spaventosa. Le sue mani tremano leggermente mentre pianifica ogni dettaglio del suo piano. Conoscendo le tendenze di Maria a cercare momenti di riflessione nella natura, decide di utilizzare questo suo punto debole a suo vantaggio. Nascosto tra gli alberi, osserva Maria da lontano, cercando il momento giusto. Quando vede Maria avvicinarsi alla grotta per rifugiarsi dalla pioggia improvvisa, Valentin vede la sua opportunità. Con movimenti rapidi ma silenziosi, la cattura e la trascina all'interno della grotta. Le pareti fredde e umide della grotta diventano la sua prigione. Valentin, con uno sguardo che oscilla tra la speranza e la follia, crede sinceramente che questo atto estremo possa far nascere in Maria dei sentimenti per lui. Pensa che, con il tempo, la sua reclusione la porti a vedere la sua preoccupazione come un atto d'amore. Nel frattempo, la notizia della scomparsa di Maria si diffonde rapidamente. La comunità intera è in allarme. Gruppi di ricerca si formano spontaneamente, con persone che si avventurano nei boschi circostanti, chiamando il nome di Maria e sperando di trovarla sana e salva. La mossa di Valentin, però, aggiunge una nuova dimensione di terrore e urgenza alla situazione. Mentre la sua ossessione diventa chiara, la rabbia e la determinazione della comunità crescono. La corsa contro il tempo è iniziata e tutti si chiedono se riusciranno a trovare Maria prima che sia troppo tardi. Alla ricerca di Maria, portando con sé una bussola e una mappa dettagliata della zona. La sua determinazione è palpabile. Ogni passo che fa nel bosco è deciso e focalizzato. Margarita, con il volto segnato dall'ansia, si sforza di tenere a bada la paura, mentre si addentra sempre più nel fitto della foresta. Nel frattempo, Leonor è tornata alla promessa con un'agenda propria. I suoi occhi astuti scrutano ogni angolo, cercando segni o indizi delle relazioni sospettate. Leonor, con la sua innata capacità di percezione, nota i piccoli gesti tra Catalina e Pelaio. Uno sguardo prolungato, un tocco fugace, una risata condivisa. Ma anche, tra Martina e Curro, individua quelle piccole cose che rivelano una connessione più profonda. Sebbene tutti intorno a lei neghino veementemente ogni accusa, Leonor non è convinta. Sa che l'amore, con i suoi segreti e le sue complessità, può nascondersi dietro la più innocente delle apparenze. Ma mentre cerca di decifrare questi misteri romantici, non può ignorare la preoccupazione crescente per Maria. Mentre Margarita e Leonor seguono percorsi diversi, entrambe sono spinte da un mix di curiosità e determinazione. Ognuna con la sua missione, entrambe sono determinate a scoprire la verità, che sia essa sull'amore nascosto o sulla scomparsa misteriosa di Maria. Lorenzo, con una determinazione che riflette nei suoi occhi, ha messo nel mirino Pelaio. Ogni movimento, ogni gesto del sospettato, viene analizzato meticolosamente da Lorenzo, che è convinto di aver scoperto qualcosa di oscuro sotto la superficie apparentemente innocua di Pelaio. D'altra parte, Margarita è irremovibile nella sua convinzione. Ogni volta che sente il nome di Pelaio, una serie di preoccupazioni e dubbi la assalgono. Si rivolge a chiunque l'ascolti, sottolineando le sue paure e insistendo sul fatto che Pelaio nasconda un lato oscuro. Il suo desiderio di proteggere gli altri dalle possibili malefatte di Pelaio la spinge a cercare qualsiasi mezzo per dimostrare le sue teorie, anche se questo significa distorcere la verità. In un tentativo disperato di smuovere la situazione e deviare l'attenzione da Pelaio, Lorenzo decide di creare una distrazione. Con un'espressione seria e un tono preoccupato, si avvicina a Manuel. Convince Manuel che Ximena ha avuto un'altra ricaduta e che ha bisogno urgentemente della sua visita. Questa mossa è tanto astuta quanto manipolatrice, mirata a distogliere Manuel dalla sua alleanza con Margarita e a creare tensioni interne. Ma Manuel, con una determinazione che riflette la sua integrità, rifiuta categoricamente. La sua voce è ferma mentre respinge la proposta di Lorenzo, sottolineando la sua lealtà e il suo rifiuto di essere manipolato. Questo rifiuto, tuttavia, non passa inosservato. I genitori di Manuel sono visibilmente scossi e una discussione accesa si accende, rivelando le crepe nelle fondamenta della loro famiglia. E mentre la tensione cresce e i segreti vengono alla luce, ci lasciano con l'anticipazione di ciò che verrà nel prossimo capitolo di questa avvincente storia. A proposito, sei già iscritta al canale per poterlo vedere? Clicca sulla campanellina e sarai la prima ad essere avvisata. A presto nel prossimo video.